La Polizia di Stato celebra oggi il sessantesimo anniversario dalla fondazione del suo servizio sanitario presenti alla Scuola Superiore di Polizia, la Ministra dell'Interno Lamorgese, il Ministro della Salute e Speranza e il Capo della Polizia Giannini. Sessant'anni contrassegnati da cambiamenti sociali, progressi scientifici e da nuove emergenze, tra queste la pandemia. Un impegno premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella con la medaglia d'oro al Valor Civile alla Bandiera. Un ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia è arrivato dalla responsabile del Viminale. Sono stati anni difficili, pieni di manifestazioni, siamo stati impegnati sul fronte sanitario ma anche su quello della sicurezza dei cittadini.